Scef per un giorno, sono i detenuti del carcere di Contrada Balate a Gela che dopo aver preso parte ad un progetto di gastronomia realizzato dalla associazione Gli Amici di Antifemo ed Entimo, preseduta da Franco Città. Hanno preparato ieri un pranzo di beneficenza, un menù realizzato con i prodotti tipici della nostra terra, il progetto ha coinvolto 10 detenuti. Questo progetto archestrato si rifà allo scopo della nostra associazione Gli Amici di Antifemo ed Entimo, che è quello di valorizzare i beni patrimoniali della nostra città, fra cui le eredità immateriali. E quindi la gastronomia, la cultura gastronomica gelese è fra questi. Quindi il progetto è stato proposto ed approvato e quindi realizzato a partire dal mese di giugno. L'iniziativa si è realizzata grazie alla collaborazione dello chef Toto Catania. Il ricavato sarà devoluto alla associazione AIRC, preseduta a Gela, da Graziella Condello. L'aiuto alla ricerca è un punto importantissimo. Poi io reputo questa iniziativa particolarmente importante per la sede dove si svolge e per le finalità che ha. Perché noi dobbiamo pensare anche a queste persone che si trovano in condizioni di difficoltà e coinvolgerle nella gestione di un pranzo reputo un'idea eccezionalmente buona. Presenti ieri numerose autorità civili, militari e religiose. Si parla tanto di rieducazione, si parla tanto di rendere appunto veramente il messaggio ai detenuti in maniera positiva e di appunto rieducarli. Ma spesso è difficile concretizzare. Queste iniziative, questa apertura, la presenza delle istituzioni mi pare veramente la risposta migliore che si possa dare. Perché dobbiamo sempre ambire proprio al reinserimento dei detenuti nella società civile, veramente rieducarli, riabilitarli. Quindi penso che queste siano le manifestazioni più belle e veramente concrete, ecco. Non solo fatte di parole ma di segni tangibili. Il direttore del carcere di Gela, Gabriella Di Franco. I detenuti sono entusiasti. Prima durante il progetto ho avuto queste varie evoluzioni. La prima fase era solo legata a loro. Insegnare come si cucina, riscoprire i cibi del passato, anche i gusti del passato. E poi dopo abbiamo capito che si volevano anche scommettere un po' nel cucinare. E poi abbiamo pensato ai commensali. E poi siccome facevamo prevenzione alla lotta ai tumori, abbiamo trasversalmente legato tutte cose. Cibo sano, cibo riscoperto e speriamo contribuire alla prevenzione alla lotta ai tumori. Il dato di Gela è eloquente. Il no ha ottenuto il 72,1% dei riscontri, mentre il sì si è fermato al 27,9%. Un divario nettissimo, così come è accaduto in tutta Italia. Dei 59.592 elettori, chiamate le urne, hanno votato in 20.266, cioè dire il 47,3%. 12.409 hanno votato no, 7.857 sì. I giolesi hanno bocciato la riforma costituzionale voluta dal governo Renzi, che ha subito un colpo durissimo e soprattutto il Partito Democratico, una vera e propria ammazzata. Avere sostenuto il premier Matteo Renzi, ritenuto dai giolesi, tra gli artefici della chiusura dello stabilimento Eni, ha pesato tantissimo. Esultano di contro il centrodestra e i grillini. E la vittoria del no ha portato ieri sera il presidente del Consiglio dei Ministri a rassegnare le proprie dimissioni. Mi assumo tutta la responsabilità della sconfitta, volevo ridurre il numero delle poltrone. La poltrona che salta è la mia, ha detto durante la conferenza stampa, convocata a Palazzo Chigi intorno a mezzanotte. Il premier ha fatto quello che aveva annunciato all'inizio della campagna elettorale in caso di vittoria del no. Oggi convocherà il Consiglio dei Ministri, salirà al Quirinale e consegnerà le dimissioni nelle mani del presidente Mattarella. Tornando a Gela, ieri le operazioni di voto sono state bloccate per circa due ore in un seggio elettorale nel rione Villaggio Aldisio per le proteste di una elettrice, secondo la quale la matita fornita dalla prefettura non era copiativa, cioè dal segno indelebile, ma perfettamente cancellabile e dunque con lo rischio di possibili brogli. La prova della facile cancellazione l'avrebbe fatta le stesse in cabina, perciò ha chiesto una dimostrazione ufficiale irripetibile da acquisire gli atti davanti alle forze di polizia, riservandosi la ricorso alla magistratura. Il presidente del seggio e l'ufficio elettorale hanno preso a verbale le dichiarazioni dell'elettrice e hanno fatto riprendere le operazioni di voto respingendone la richiesta. Le matite provate dai dipendenti comunali su carta normale sarebbero risultate perfettamente a norma. Non vorrei fare un'analisi politica perché la gente ha capito, la gente ha difeso la Costituzione, la gente è stata sovrana, ha scelto la democrazia alla violenza della democrazia. E quindi il referendum è stato bocciato all'unanimità degli italiani, perché il dato confortante e scandaloso per quanto riguarda il PD è che il 72% ha votato per il no. Quindi ha difeso la Costituzione, ha difeso i diritti, ha difeso il popolo, ha difeso la Repubblica italiana. Chi ha preso una mazzata tremenda è proprio il Partito Democratico. Ma io credo che questo sia stato un errore del leader del PD che ha personalizzato questo referendum e questo è stato un errore. Questo era un referendum costituzionale, era un referendum per gli italiani e per l'Italia. Lui l'ha trasformato in un referendum politico, non si risolve così la crisi politica, sicuramente facendo un cambiamento della Costituzione. Quindi gli italiani l'hanno bloccato, gli italiani lo rimandano a casa e sicuramente gli italiani hanno voglia di andare a votare e di scegliere il proprio leader che li guida per i prossimi anni. A livello locale cosa cambia? Diciamo che a livello locale abbiamo la consapevolezza che il Centrodestra Unito arriva a numeri importanti. Abbiamo la consapevolezza che l'affluenza alle urne è alta e abbiamo la consapevolezza che si può cambiare e si deve cambiare. Ma sicuramente dobbiamo lavorare e dobbiamo migliorare soprattutto nelle idee di proporre a questa città uno sviluppo importante per rialzarci da questa crisi che ci attanaglia da tantissimi anni. Oltre a voi esultano anche i grellini. Assolutamente. Diciamo che i partiti hanno fatto la propria parte. Noi abbiamo messo il nostro simbolo, noi di Forza Italia abbiamo lavorato per difendere la Costituzione come l'hanno fatto il Partito Liberale, il Comitato per il No e quindi il Movimento 5 Stelle. Ma questa è una vittoria non dei partiti ma è una vittoria del popolo e degli italiani e soprattutto dei gelesi che hanno bocciato il Partito Democratico e Renzi. Segretario, i numeri parlano da soli. 12.409 a Gela hanno votato no, 7.857 sì. Avere sostenuto Matteo Renzi in una città che ha perduto lo stabilimento e Matteo Renzi, il Premier, è stato definito l'artefice della chiusura, non è stato assolutamente facile. Io sgancio il mio ragionamento rispetto a una vicenda semplice. Io devo ringraziare tutto il gruppo dirigente che da maggio ha iniziato questa straordinaria campagna elettorale che non era una campagna elettorale a favore o contro il Renzi e purtroppo noi non siamo secondo me riusciti totalmente non solo a Gela ma a tutti i livelli a sganciarci da questa cosa ma era una campagna dal nostro punto di vista per mettere in campo una grande visione di cambiamento e di innovazione del Paese. Chiaramente noi ci siamo spesi perché rispetto a questa idea di cambiamento ci credevamo e ci crediamo e rispettiamo l'elettorato che invece non ha voluto dire no. Ma è una vera e propria mazzata per il Partito Democratico? E' certamente un risultato negativo che ridimensiona profondamente il Partito Democratico sul piano dei numeri, su questo non ci sono dubbi. Contemporaneamente però voglio ricordare che il dato nazionale ci parla di un 40% che mentre dall'altra parte, diciamo sostanzialmente solo dell'area democratica mentre dall'altra parte mi sembra che ci siano tra movimenti, sigle sindacali, associazioni e una vendina di sigle e quindi insomma lì bisogna capire cosa succede. Però guarda io non voglio buttarla adesso nella polemica. Ripeto, noi abbiamo fatto una grande battaglia di cambiamento. Abbiamo perso, ne prendiamo atto e cerchiamo di ripartire rispetto a quel dato. Però anche all'interno del PD, mi riferisco a livello nazionale, c'erano due anime. C'era chi diceva sì, c'era chi diceva no. Sì, purtroppo un pezzo del partito non ha condiviso il percorso. Io vengo dalla sinistra del mio partito, da quella storia e ritengo che questa idea di cambiamento meritasse sostegno perché era un'idea ed è un'idea utile al Paese che avrebbe semplificato profondamente la struttura del Paese. Detto questo, è andata così, bisogna ricostruire dal dato che comunque, ripeto, nazionalmente è un dato del 40% e chi pensava che la città di Gela sarebbe sganciata rispetto al dato regionale non è stato così, visto che Gela è pienamente nella media regionale che purtroppo è una media negativa e non è una scusante ma è un dato di fatto. Molte città di proporzioni grandi hanno anche fatto peggio di Gela. Questo dimostra che il trend alla fine è stato un trend politico nazionale e che alcune vicende localistiche non sono completamente centrate all'interno della discussione. Ripeto, il Partito Democratico riparte da questo dato con grande umiltà e rispettando le elettrici e gli elettori che hanno scelto di non sostenere questa riforma. Tornano i laboratori Paola Lab, sono dei laboratori creativi perché il tuo motto è poi, come dire, ereditato anche da un importante pedagogista che è un bambino creativo, un bambino felice. Questi laboratori constano di tantissimi appuntamenti tematici e si comincerà quando? Inizieremo sabato 10 dicembre. Il progetto è in condivisione con il Museo archeologico regionale di Gela. Ringrazio il direttore turco che ha sposato fin da subito l'iniziativa. Gli appuntamenti saranno due appuntamenti al mese che vedranno anche la collaborazione di esperti esterni. Potete trovare il programma online nella pagina Facebook Paola Lab. Vi aspetto sabato giorno 10 dalle 16 alle 18. I primi bambini, fascia di età per il primo appuntamento, 5-7 anni. I bambini naturalmente si accosteranno anche alla conoscenza dell'archeologia e dell'arte che appartiene anche ad un'epoca molto lontana dalla nostra per cui cercherete anche di coinvolgerli in quello che è il quadro storico di riferimento della città in cui vivono e questo è molto importante per un bambino piccolo. Questo indubbiamente. L'idea nasce proprio per far conoscere ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti perché come vedrete dal programma saranno coinvolte diverse fasce di età. Questo perché riteniamo importante la conoscenza dei nostri beni archeologici, artistici visti in una lettura, in una chiave anche nuova, moderna partendo proprio dal saper fare un po' mi sono data questo motto saper fare per saper essere e quindi dall'aspetto manuale perché tutte le discipline saranno poi discipline manuali dal riciclo, dall'architettura, dal legno e anche altri cinema, fotografia vorrei elencarle tutte ma insomma c'è il programma. Competenze trasversali, storia, arte ma soprattutto la parola d'ordine sarà e sarà creatività. Sì, creatività, fantasia, invenzione così come diceva Bruno Munari, artista, designer e pedagogista che ha fatto di questi laboratori il suo cavallo di battaglia a metà del Novecento a Milano e sto cercando di riportare un po' quella che era la pedagogia di Montessori, Piaget e poi non per ultimo Bruno Munari. Di trovare dei riscontri su questa attività è particolarmente complesso oltre alle dichiarazioni dei collaboratori c'è tutta un'attività sul terreno quindi non sono indagini che si esauriscono in un breve lasso in un breve lasso di tempo se voi pensate che l'indagine è partita nel 2010 una prima tranche si era conclusa nel 2011 è stata riattualizzata con episodi tuttora ben più attuali quindi significa che c'è una continuità temporale quantomeno dal 2010 fino a oggi di queste organizzazioni criminali e di questa organizzazione che ricordiamo fa è cosa nostra Gruppo Madonia quindi insomma la più difficile, la più perniciosa la più dura insediata sul territorio sul mandamento gelese quindi è un'attività particolarmente importante perché è una risposta che si dà a quel territorio e alla cittadinanza tutta Bene, questa operazione intanto ci riporta indietro veramente nel tempo perché ci rendiamo conto come l'associazione mafiosa ancora trae il suo sostentamento da un'attività che potremmo definire quasi atavica delle associazioni mafiose qual è la guardiania quindi questi soggetti, questi guardiani che vengono imposti di essere assunti all'interno di aziende agricole affinché queste aziende non subiscano danni di alcun tipo né incendi né furti chiaramente di ingenti diciamo quindi l'indagine si sviluppa perché dei collaboratori di giustizia anche sul territorio di Niscemi ci hanno parlato abbastanza nei dettagli di come effettivamente i capi mafia dell'epoca e mi riferisco a Montalto mi riferisco a Di Pasquale mi riferisco ad Amato Francesco volessero che questa attività continuasse a essere svolta sempre nel tempo e negli anni le attività tecniche mettiamo sotto le attività tecniche e ci danno assolutamente riscontro di quelle che sono state le dichiarazioni dei collaboratori ma vi dirò di più un'indagine particolarmente carina frizzante perché questi soggetti evidentemente ritenevano che nessuna attenzione ci fosse su di loro noi registriamo addirittura conversazioni nelle quali per dare l'avvertimento dei danneggiamenti a cui sarebbero potuti incorrere qualora non avessero pagato viene fatto in maniera più soft vengo e mi spiego per esempio viene appiccato un incendio alle serre per evitare che la serra bruciasse tutta quanta lo stesso guardiano chiama i vigili del fuoco di modo che però aveva poi una grossa moneta di scambio con la vittima dell'azienda agricola poi un'altra chicca dell'indagine io ritengo che sia anche il fatto che questi guardiani addirittura si facevano pervenire sui loro telefoni che noi avevamo sotto controllo gli sms di intrusione quelli che ad oggi ci sono con gli allarmi collegati quindi ai loro cellulari fai la cosa giusta differenzi ai rifiuti mantieni il decoro urbano della nostra città oggi giovedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione cosa conferire? bottiglie prive di tappi fiaschi senza paglia barattoli e vasetti bicchiere e brocche solo se in vetro non cristallo vetri vari anche se rotti contenitori vari in vetro per alimenti e non senza tappi e o altri materiali diversi depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire? avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fonde di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali domestici un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto cari con cittadine a voi che siete il miglior esempio di coraggio e di forza il vostro dramma non è un disagio isolato e circoscritto ciò che stanno attraversando le famiglie dei lavoratori dell'indotto ha ripercussioni sull'intera economia cittadina e anche sullo spirito di questo Natale in ognuno di noi ma sarebbe un errore pensare che l'attenzione che vi stiamo rivolgendo è solo una circostanza limitata a queste festività le ricorrenze di questo periodo acquiscono i dolori di una popolazione in cui si specchia la storia della nostra città negli ultimi 50 anni una storia con un epilogo indegno per un popolo che ha pagato con il sacrificio e la vita se non fosse per la forza e il coraggio che trasmettete nella mia azione amministrativa fermarsi alle carci le ferite non darebbe giustizia alla nostra identità sin dal mio insediamento sono stato al vostro fianco ho ascoltato le vostre storie ho preteso spiegazioni in tutti i confronti con i nostri governanti un percorso in salita che giorno dopo giorno ci allontana sempre più dal baratro in cui eravamo finiti ma ho soprattutto condotto una battaglia che solo una persona libera dai fili dei partiti può permettersi anche a rischio della propria persona ho portato la questione oltre i confini territoriali perché Gera rischiava di essere archiviato come un caso risolto finendo nel dimenticatoio come altre realtà locali hanno già sperimentato ho urlato la mia rabbia nei network nazionali e ai vertici ministeriali anche quando mi sono sentito solo non ho mai ceduto a tentazioni disoneste perché sentivo forte la vostra rabbia di cui mi sono voluto fare interprete sarebbe stato troppo semplice continuare la politica che divide la disperazione rassicurandola con i vari ci penso io a te non ti preoccupare sistemo tutto io di circostanza a cui ci hanno abituato i lestofanti della politica io queste formule non le ho mai sapute pronunciare ma in ogni atto che ho firmato in ogni progetto di sviluppo che ho presentato in ogni tentativo di investimento esterno che ho caldeggiato non c'è stato un secondo della mia vita in cui io non abbia pensato alle vostre preoccupazioni di mogli e alle vostre apprensioni di madri nelle ultime ore stiamo approfondendo la questione che riguarda l'impiego della mano d'opera nei cantieri avviata da Enimed il 12 dicembre si terrà a Caltanissetta un tavolo prefettizio perché quel tavolo spetta soltanto a chi è inserito nella lista di disponibilità ma questo non è il nostro unico impegno abbiamo tracciato opportunità occupazionali a medio e lungo termine per il territorio perché non vogliamo che i nostri cittadini vivano di elemosine io non so se la bioraffineria i fondi di compensazione il patto per la Sicilia i finanziamenti europei l'agricoltura l'artigianato il turismo saranno sufficienti a segnare la svolta economica di questa città sicuramente non è un cammino facile ma solo il passo deciso di una città che non retrocede può sostenere di certo non abbiamo lasciato nulla di intentato per il futuro delle vostre famiglie che più di tutte meritano rispetto per il lavoro e la dignità che le sono state scippate dall'oggi al domani continuiamo a seguire ogni passaggio di queste ambiziose linee di sviluppo economico con grande fiducia solo forti di questi sentimenti potremmo cogliere il senso vero di ogni augurio che ci scambieremo alle soglie di un anno che attendiamo con l'ottimismo di chi dopo una caduta sa rialzarsi più forte non vogliono abbandonare la propria città non vogliono andare via da Gela così come hanno fatto in tanti negli ultimi tempi a seguito della chiusura dello stabilimento loro vogliono rimanere nel luogo in cui hanno vissuto e vivono sono le mogli i figli degli operai dell'indotto della raffineria anzi per essere chiari degli ex operai di un indotto che non esiste più hanno scritto una lettera aperta dal sindaco Domenico Messinese nessun attacco ma solo un'immediata presa di coscienza di quello che sta accadendo ormai il Natale è alle porte e per noi sarà un Natale amaro duro difficile a causa della situazione che stiamo vivendo senza lavoro senza futuro scrivono e non siamo soli sono coinvolte in tale tragedia anche altre famiglie gelesi altri settori purtroppo non è facile per nessuno vivere questo dramma rivolgendosi al primo cittadino chiedono di mettersi una mano sul cuore e di leggere ciò che c'è nel nostro cuore il cuore degli onesti cittadini gelesi le persone che non fanno notizia che differenziano i rifiuti correttamente quelli che pagano le tasse quelli che amano la propria città quelli che guai a sentir parlare male di Gela quelli che hanno perso stanno perdendo i propri cari a causa del cancro e come se non bastasse hanno perso il lavoro chi ci riderà la nostra dignità cosa metteremo in tavola questo Natale da mogli da compagne non è facile stare accanto a delle persone che non hanno il lavoro disperate che hanno poca fiducia nella politica nelle istituzioni che vivono in primis questo dramma è un'esperienza bruttissima un trauma psicologico ed economico che impatta sulla vita di coppia e familiare essere di sostegno al marito e ai figli non è per niente facile in un contesto del genere i problemi che ruotano attorno a questa realtà sono complessi e complicati da spiegare ad oggi non esiste nulla di concreto di risolutivo per gli opera dell'indotto e della nostra città mentre di concreto esiste il disagio la sofferenza le difficoltà economiche mutui da pagare bollette figli da crescere da mandare a scuola con dignità e bisogna pur mangiare noi non siamo invisibili non vogliamo rinunciare allo splendore della nostra spiagge si legge ancora nella lettera e al clima stupendo che tutti ci invidiano non vogliamo sussistenza vogliamo ciò che ci spetta il lavoro per tutti il lavoro per chi ha sempre lavorato a Gela ed adesso è costretto ad andare a lavorare e a vivere lontano dalle proprie famiglie e a ritenersi fortunato quando lo trova ma veramente dobbiamo lasciarci morire così veramente non c'è nulla da fare non vogliamo lasciare questa città è nostra sindaco le auguriamo di passare uno splendido Natale ma chiediamo che pari dignità sia conferita al nostro Natale non è un panettone è uno spumante che fanno la festa ma la gioia di stare uniti vicini accanto ai propri cari lei è il primo cittadino non ne sembra chiudono che questa città sia stata calpestata a sufficienza? voi avete avviato numerosi incontri adesso promuovete anche un laboratorio un laboratorio di idee sì praticamente mettere in campo un progetto condiviso per fare ripartire questo territorio un progetto che sia elaborato dalle cittadine e dei cittadini di questo territorio dove incontrando associazioni parrocchie scuole comitati di quartiere insomma abbiamo organizzazioni da tutti è venuta fuori l'idea che questa città sta morendo ma dall'altra anche rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti per dare una prospettiva soprattutto ai nostri figli sostanzialmente lei dice che bisogna fare rete per uscire da questa situazione sì perché molti giocano sulle divisioni di questo territorio noi ci siamo resi conto incontrando a livello nazionale varie istituzioni incontrando anche a livello regionale puntano molto su questa nostra incapacità di fare di fare rete bene noi invece pensiamo che i cittadini e le cittadine abbiano tutto il diritto e soprattutto la voglia di fare qualcosa per il proprio territorio questa è una città ricca di energie di risorse di movimenti associazioni parrocchie eccetera molto attive e quindi è da lì che noi vogliamo partire dalle persone in carne e ossa utilizzando degli strumenti chiari che ci aiutano a definire un progetto che faccia ripartire questo territorio in un'area molto più diretta pragmatica facendo rete si trova il lavoro facendo rete non si trova il lavoro ma si pongono è chiaro che noi guardiamo all'immediato al medio e al lungo termine questa città va ripensata la gente non ha più lavoro molti facevano fronte sullo stabilimento su Leni che ha ridimensionato è una partita che andrebbe poi giudicata perché siamo arrivati a questo punto e tutto il resto però in questo territorio stanno arrivando tantissime risorse ci sono tantissime opportunità che possono portare allo sviluppo di attività lavorative ci sono tanti soldi che devono essere spesi per le bonifiche e queste bonifiche vanno ancora progettate e attuate lì potrebbero trovare lavoro tantissime persone ma andrebbero attivato anche delle altre funzioni che sono la formazione di quegli operai che hanno perso il lavoro e che potrebbero andare a lavorare dentro quei cantieri ci sono altri cantieri che potrebbero partire ma per mancanza di autorizzazioni non partono allora noi dobbiamo fare fronte comune come si dice dalle nostre parti qui non c'è più tempo per babbiare cioè qui nessuno può giocare sul futuro di questo territorio e quindi dobbiamo essere noi cittadini a rimboccarci le maniche e a darci aiuto perché nessuno ci viene a salvare ce ne siamo resi conto e nella rete coinvolgerete anche l'amministrazione comunale con l'amministrazione comunale noi avremo un dialogo diretto perché è chiaro che noi quello che elaboreremo lo porteremo sul tavolo delle istituzioni delle varie istituzioni e loro saranno anche più forti nella richiesta di quello che vuole questa città perché non sarà il tizio il caio ad averlo elaborato in una stanza con due tre soggetti ma sarà la città che insieme deciderà quale futuro dare a questo territorio a Grazie a tutti.